Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV, cominciamo con la cronaca. Un uomo di 51 anni ieri sera intorno alle ore 20 in via Samuel Mors nella zona industriale Pratacci di Arezzo è stato travolto da un'auto, sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza dell'Asda Toscana Sud-Est con automedica e ambulanza della misericordia di Arezzo. È stato poi allertato anche l'elisoccorso Pegaso 2 a bordo del quale il 51enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Lescotte di Siena in codice rosso sul teatro dell'accaduto per i rilievi di legge intervenuta la Polizia Municipale di Arezzo. Uccise il vicino di casa che voleva demolirgli la casa con un escavatore. Mugnai dovrà comparire davanti al giudice in udienza preliminare il prossimo 11 giugno. Chiara Sadotti. Comparirà di fronte al giudice il prossimo 11 giugno Sandro Mugnai, l'uomo che nel gennaio 2023 uccise con un fucile il vicino di casa Gesim Dodoli che con la benna di un escavatore stava demolendo la sua abitazione a San Polo. In quella data infatti è stata fissata l'udienza preliminare. Spetterà al giudice del tribunale di Arezzo Claudio Lara stabilire se Mugnai dovrà essere giudicato potrà essere applicata la scriminante ovvero la giustificazione che rende non punibile un reato della legittima difesa. Intanto i familiari della vittima, moglie, figli e fratello pronti a costituirsi, parte civile, hanno chiesto il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in vista di un possibile risarcimento danni. La tragedia risale alla notte tra il 5 e il 6 gennaio 2023. L'artigiano si trovava in casa con la moglie, uno dei figli ed altri parenti. All'improvviso il vicino con il quale in passato c'erano stati dei dissapori salì sulla ruspa e la lanciò contro l'abitazione dopo essersi accanito contro le auto che erano sul piazzale. Mugnai a quel punto gli urlò di fermarsi, poi prese il fucile e sparò prima un colpo in aria, poi quattro diretti verso l'uomo uccidendolo. Venne arrestato e poi scarcerato dopo qualche giorno dal giudice Giulia Soldini che di fatto qualificò l'episodio come legittima difesa. Per la PM Laura Taddei, titolare dell'inchiesta, si è trattato invece di una reazione spropositata. Sembrano non terminare mai i disagi per i pendolari aretini e valdernesi che fruiscono della tratta ferroviaria Arezzo-Firenze. Ancora una mattinata di passione, la linea veloce e direttissima è rimasta bloccata per un intercity fermo in galleria. Tutte le frecce intercity e gli italo sono stati dirottati sulla linea lenta con il conseguente congestionamento della tratta e il disastro per i regionali. Tra ritardi e soppressioni la mancata comunicazione con rabbia conseguente da parte dei viaggiatori. Il regionale veloce delle 8 e 15 ad esempio è stato soppresso dopo una manciata di minuti, nonostante si sapesse del disservizio. Il convoglio è stato fatto fermare definitivamente alla stazione di Ponticini e i viaggitori fatti scendere dal treno in attesa del passaggio del treno successivo. Disagi maggiori sono registrati per quello che riguarda i viaggiatori dell'intercity 580 proveniente da Foligno è partito dalla stazione Umbra alle 5.57 diretto a Milano Centrale con 103 minuti di ritardo poco prima che fosse alle ore 9.40 decisa la sua soppressione. Altri treni regionali sono stati bloccati lungo la linea ferroviaria senza motivazioni precise e concordanti. Tre messaggi diffusi dal personale a bordo del treno e ciò che veniva specificato dai siti gestiti da Trenitalia. Ma a proposito di questo, sui disagi subiti dai pendolari retini, nel pomeriggio è intervenuto l'assessore regionale di infrastrutture Stefano Baccelli. Nessuna procrastinazione, il lavoro sulla linea procede, presto tutte le opzioni percorribili per superare la criticità delle interferenze con l'alta velocità. Sentiamo. Terminati gli approfondimenti che l'assessore alle infrastrutture e mobilità della regione toscana Stefano Baccelli aveva sollecitato a RFI e Trenitalia, ora tutte le opzioni tecnicamente percorribili sono in via di stesura. A presentarle ai sindaci e al comitato pendolari Valdarno Direttissima sarà lo stesso assessore nell'incontro convocato per martedì 16 aprile in regione. Si è sollevata una grande agitazione per il rinvio dell'incontro del 26 marzo, dichiara l'assessore Tengo a chiarire, che l'impegno della regione invece va appena oltre un singolo incontro e non ha dunque subito alcuna battuta d'arresto. Tra i passaggi compiuti in questo periodo anche l'interlocuzione con il collega Umbro Enrico Melasecche, con il quale giovedì 18 aprile Baccelli intende valutare ogni provvedimento utile a porre fine ai disagi registrati sul regionale 40-70. Treno che pur non ricadendo nel contratto di servizio della regione toscana registra un'elevata frequentazione dei pendolari del Valdarno. L'appuntamento dunque con i sindaci e con il comitato dei pendolari è fissato per martedì 16 aprile alle 16 negli uffici della giunta regionale. Passiamo alla politica perché il vice capogruppo della Lega Egiziano, Andreani, lascia il partito del Carroccio. Oggi la comunicazione ufficiale dopo una serie di avvenimenti che hanno inclinato il suo rapporto con l'amministrazione comunale di Arezzo. Andreani andrà a far parte del gruppo misto. Chiara Sadotti Questa mattina ho presentato anche alla presenza del Consiglio Comunale le mie dimensioni del gruppo Lega Sardini Premier e quindi entrerò a far parte del gruppo misto. Una decisione sofferta e difficile ma nell'aria ormai da tempo. Egiziano Andreani, ex vice capogruppo della Lega, passa al gruppo misto e non rinnova la tessera del Carroccio. È un vaso che si è riempito piano piano in questi ultimi due anni e poi è sempre l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. Innanzitutto quello che il gruppo, il partito non è riuscito a portare avanti secondo me certe cose tipo riunioni di maggioranza, una presenza costante e politica. I mal di pancia interni alla Lega Eretina erano presenti ormai da tempo. Lo scorso dicembre Egiziano Andreani aveva infatti lasciato il ruolo di vice capogruppo. Tra i punti di rottura uno su tutti la vicenda della fraternità dei laici. È stato lì l'inizio, bere proprio di tutto. Perché chiaramente quando c'è un accordo politico e viene preso con il gruppo consigliare il primo passaggio secondo me dovrebbe essere il gruppo consigliare naturalmente nuovo che c'era e quindi affrontarlo lì. Anche perché il sottoscritto come sapete fu uno degli animatori per togliere quella che è la gestione dei cosiddetti tra virgolette migranti alla fraternità dei laici e quindi modificare tutto. E quindi mi sarei aspettato un comportamento diverso, diciamo più rispettoso. A deludere Andreani poi anche le recenti assenze del primo cittadino. Le ultime occasioni in cui si è presentato il nuovo rifacimento di quella che è i giardini di Polistone, i giardini del Porcinai e sia anche in consiglio comunale dove chiaramente è stata presentata la riqualificazione anche dell'area della ex Cadorna, quindi l'area di Piazza Fanfani eccetera. Certamente non vedere in quell'occasione ma non per me ma anche per i cittadini di Arezzo il loro primo cittadino si poteva anticipare o posticipare determinate cose in modo che da dare un'immagine di rispetto per tutti i nostri concittadini. L'uscita dalla Lega di Andreani da così vita il gruppo misto in consiglio comunale. Non sono uno spingibottone e quindi di conseguenza valuterò gli atti che serviranno a questa città. La mia libertà di movimento sarà legata a quello che naturalmente anche questa amministrazione vorrà fare, le decisioni che l'assessore di riferimento e il sindaco vorranno prendere. Federico Rossi, a tal proposito, il capogruppo del Carroccio interviene con una nota proprio sull'uscita di Egiziano Andreani. Prendo atto della conferenza stampa dell'uscita del consigliere comunale Egiziano Andreani dal gruppo consigliare Lega Salvini Premier e l'adesione al gruppo misto. Ringrazio il consigliere Andreani per il lavoro svolto in questi anni per il partito, augurandogli le migliori fortune per il futuro. Paolo Mengozi è il nuovo presidente del consiglio interprovinciale del gruppo Giovani Imprenditori di Commercio Firenze-Arezzo. La nomine è arrivata dal neonato consiglio direttivo che andrà a rappresentare i giovani titolari di impresa del commercio, turismo e settore terziario delle due province toscane. Mengozi, padre di due figli e già alla guida del sindacato, è fondatore dello spazio di co-working WI 5200 e direttore artistico del Mango Music Festival, musicale di riferimento della città di Arezzo, che quest'anno festeggerà le 20 edizioni. e andiamo a parlare di un argomento bello perché Unicef disigna il Santa Maria Lagruccia come ospedale amico dei bambini. Vediamo. Un ospedale amico del bambino è un ospedale che cerca di fornire dei servizi che siano il più rispettosi possibile della fisiologia. Ospedale amico delle bambine e dei bambini, l'importante riconoscimento è stato consegnato dall'Unicef all'ospedale Santa Maria della Gruccia di Montevarchi. Ogni stato si deve impegnare per rispettare il diritto dell'infanzia e dell'adolescenza alla salute fisico, psichico e sociale. Io aggiungerei anche spirituale, che è una dimensione che nel materialismo consumista che ci pervade bisogna ricordarsela. In un paese come l'Italia, dove il calo delle nascite è strutturale, la cura del percorso di crescita di una nuova famiglia diventa dunque centrale. Il sostegno, ad esempio, dell'allattamento al seno è uno dei dieci passi dettati dall'Unicef. La cosa più semplice è che prima i neonati stavano al nido e oggi stanno sempre con le mamme e non si staccano mai con le mamme. Questa è la cosa proprio più semplice. Oppure tutto l'impegno che noi mettiamo fin dal periodo della gravidanza per promuovere e sostenere l'allattamento al seno. Questi riconoscimenti, soprattutto per la gestione del percorso dei bambini in tutta la loro fase di crescita, è fondamentale perché vuol dire che c'è una massima attenzione ai bambini, alle famiglie, ai genitori in tutta la loro fase di crescita. Questo noi siamo orgogliosi e sicuramente sarà un motivo di crescere ancora di più rispetto agli argomenti trattati per la gestione dei bambini in ospedale. La sicurezza alimentare è il tema dell'ultima lezione di educazione civica tenuta dal dottor Pierluigi Rossi e gli studenti dell'Istituto Piero della Francesca. La medicina vede gli effetti che il cibo produce sul nostro corpo. L'agricoltura produce gli alimenti. Oggi noi mangiamo alimenti che non sappiamo da dove vengono, chi abbia coltivato, quali additivi chimici contengono e dobbiamo assicurare la sicurezza che è un diritto di ogni persona accanto alla parola sicurezza o aggiunto alla parola sicurezza alimentare. Medicina, agricoltura e sicurezza alimentare sono questi temi portati in aula dal dottor Pierluigi Rossi per le lezioni di educazione civica, questa volta ospitate dal liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo. La scuola è un ambiente educativo e quindi al di là di tutti i contenuti e la professionalità che i ragazzi acquisiscono all'interno delle nostre scuole si devono confrontare su argomenti che sono vitali e importanti per il loro futuro, il futuro proprio loro personale e grazie insomma al contributo di persone veramente esperte i nostri giovani possono crescere sani ed equilibrati. Prosegue così la scuola di formazione civica nata da un'idea di Stefano Tenti presidente dell'associazione culturale tra Tevere e Arno. Un ritorno che mi ha riempito di soddisfazione non solo a me naturalmente, a tutti i docenti ma possiamo anche dire estendendo il concetto di tutta la città i nostri ragazzi sono stati veramente splendidi ormai qualche migliaio di ragazzi assistito alle lezioni di educazione civica ripeto tutti attenti, sempre attenti per una materia insomma che potrebbe anche essere noiosa quale l'educazione civica. Poti Pictures Academy proroga i termini per il casting 2024-2025 una vera e propria selezione di aspiranti attori speciali da parte della casa cinematografica Aretina. Chiara Sadotti Te l'hanno mai detto che sei strano che non sei capace di fare nulla ti dicono cosa devi fare dalla mattina alla sera ti portano al giro come un pacco postale piume di pasticche a tutti i pasti e magari ti dicono che sei speciale insomma ti trattano come un principe e poi nemmeno una principessa bene forse sei quello giusto è stata prorogata domenica 14 aprile la scadenza per la richiesta di partecipazione ai casting della nuova classe della Poti Pictures Academy la prima scuola di cinema per persone con disabilità finalizzata alla realizzazione di cortometraggi professionali si tratta infatti della prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo ed è nata ad Arezzo nel 2020 l'Academy adesso si propone di offrire ad otto persone con disabilità intellettiva un'opportunità unica la formazione nel campo cinematografico non si tratta infatti solo di insegnare tecniche di recitazione ma favorire un ambiente in cui possano esprimere al massimo le loro capacità superando le barriere che a volte limitano la partecipazione nella società l'obiettivo dunque far sì che non solo diventino parte attiva del processo cinematografico ma anche che il risultato finale un cortometraggio rappresenti in modo autentico le loro abilità e creatività classe 1924 un'intera vita dedicata al servizio del prossimo attraverso la sua opera di volontariato alla misericordia di Arezzo ieri Bruna Pratesi ha spento ben 100 candeline un compleanno molto speciale per lei un secolo celebrato con una festicciola semplice e affettuosa insieme alle consorelle e confratelli di ieri e di oggi grazie a sentimenti me piglia la lì madonna cento anni e non sentirli mai detto popolare fu più azzeccato Bruna Pratesi a retina doc ha appena soffiato su cento candeline un traguardo festeggiato nella sede della misericordia di Arezzo dove Bruna ha speso 40 anni della sua vita io ho lavorato mangiare alle suori non mi dire ma passo un pranzo no io mi alzo la mattina per fare colazione e arrivo da letto nata il 2 aprile del 1924 sposata e con cinque figli uno ci racconta un po' più speciale ascolta sono sposata cinque figlioli io siccome ho fatto sempre le opere buone trovo un bambino che non ama nessuno io ho un figliolo l'ho portato a casa mia l'ho fatto dormire nel divano l'ho fatto studiare ora ha sposato io sono la mamma Bruna per lui è una grande testimonianza la Bruna in tutti questi 40 anni che ha lavorato qua e ha testimoniato i suoi valori qui in misericordia e ci auguriamo di arrivare tutti a 100 anni come ci è arrivata lei con una viva città da fare invidia ad una ventenne Bruna dispensa ancora consigli preziosi e si avvia dunque oltre il secolo di vita consiglio dada mamma Bruna allora che consiglio può dare? che i genitori devo fare da genitori andiamo allo sport con il calcio l'Arezzo dopo la sconfitta casalinga con la Baby Juve l'Arezzo volta pagina prepara la trasferta di Lucca che si giocherà lunedì prossimo 8 aprile allo statio Porta Elisa contro la Lucchese il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45 1000 i biglietti a disposizione dei tifosi a Maranto per la partita la prevendita è già partita oggi i tagliandi per il settore ospite saranno disponibili solo online attraverso il circuito Go2 fino alle 19 di domenica 7 aprile i biglietti di Curva Est avranno un costo di 9 euro più il diritto di prevendita e le spese nel frattempo si sono disputate anche due gare di recupero in serie C girone B la Juventus Next Gen ha superato per 2-0 la Virtus Entella mentre è ancora in corso la partita i Rimini ovvia mentre andiamo in onda e rimanendo in ambito sportivo passiamo a uno sport di cui parliamo di solito poco però è un'occasione veramente importante perché parliamo di campionato mondiale di pesca alla trota una quattro giorni che vedrà protagonisti i torrenti del nostro Casentino e i tanti pescatori sportivi agonisti e non che correranno da ogni parte per immergersi nella natura incontaminata delle nostre foreste Chiara Sadotti Castel San Nicolò Prato Vecchio Stia e più in generale tutto il Casentino pronti a diventare per quattro giorni capitale mondiale della pesca sportiva alla trota lungo le sponde del torrente Solano si terra infatti il campionato del mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali per nazioni e club il contratto di fiume è il quadro nel quale si inserisce anche questo evento il contratto di fiume è fortemente voluto e promosso dal consorzio che si pone proprio la qualificazione del fiume dei torrenti in questo caso il Solano nel Casentino in modo da poter rendere sempre più appetiti fruivi questi torrenti e questo territorio da tutti i cittadini è chiaro che ci ha fatto particolarmente piacere e direi anche onore che a seguito anche del nostro intervento questo torrente è stato scelto per i mondiali di pesca l'area su cui si svolgerà il campionato è particolarmente attenzionata dal consorzio è un tratto da un punto di vista idraulico molto importante in quanto attraversa il centro abitato di strada in Casentino ed è attraversato anche da altri affluenti come il rio Africa e il fosso di Casanova che dal momento che attraversano il centro abitato anche con lunghi tombamenti sono frequentemente manutenuti dal consorzio L'appuntamento è dal 4 al 7 aprile circa 200 iscritti alla trentesima edizione della manifestazione tra cui oltre 40 agonisti Questo campo gara praticamente avrà a differenza da tutte le acque libere pubbliche un regolamento particolare che sarà quello di rilasciare obbligatoriamente il pesce dopo l'avvenuta cattura quindi questo sarà un volano importante per il territorio perché comunque sarà una cosa diventerà un tratto di fiume molto attrattivo perché comunque i pesci che rimangono durante le gare o comunque delle emissioni durante l'anno devono essere obbligatoriamente rilasciati E questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV Grazie a tutti